Ciao amici del MyLab! Cosa si può fare per l'intestino pigro usando dei probiotici naturali? I probiotici per l'intestino sono una buona cosa, penso che li produciamo anche, non ve l'ho neanche mai detto, però quasi sempre vengono introdotti quando una persona ha un disturbo intestinale e momentaneamente c'è il rischio che facciano peggio. Allora, nella personalizzazione dei programmi MyLab ti sappiamo dire quando è il momento, non io, te lo sa dire il consulente, il biologo, il medico che ti segue, però in generale c'è un consiglio che ho avuto l'ok da questo team di medici a darvi. I cibi fermentati migliorano tantissimo la nostra flora intestinale e sono molto poco pericolosi, se vogliamo dirla così, le possiamo usare facilmente. Quali sono questi cibi fermentati che possono aiutarci? Qua andiamo nei consigli un po' meno diffusi, è per esempio il miso. Il miso è una pastella che vendono nei negozi bio, nei negozi di roba giapponese, che serve a fare la famosa zuppa di miso. L'avrai mangiata qualche volta nei ristoranti giapponesi, giusto? Ecco, questo miso è una pastella, è un fermentato di riso, e lo fanno fermentare per un tempo lunghissimo, a volte anche per degli anni, perché quel miso lì, grazie al fatto che fermenta lentissimamente, gli viene dato veramente tanto tempo, quella pastella contiene i bifidi. Mentre invece i due prima che ti ho detto, i yogurt e kefir, contengono quasi esclusivamente lato bacilli, che vanno bene ma non sono tutto. E i bifidi, quando ci sono i lattobacilli, non proliferano. Semplicemente devo immaginarti che i lattobacilli siano delle bestioni grosse muscolose e i bifidi sono delle palline piccoline, timidine, che vengono mangiate e represse dai lattobacilli. Quindi è difficilissimo che riescano a proliferare nello stesso ambiente. Il miso invece contiene soprattutto i bifidi, e quei bifidi sono una parte essenziale per la nostra salute. Ecco però una cosa, se tu ci fai la zuppa di miso, ti ricordi quanto scottava l'ultima volta che l'hai mangiata? Ecco, se scotta a te, figurati cosa fa a un microorganismo grande così, che non lo vedi nemmeno al microscopio, vengono bruciati e uccisi tutti. Quindi la zuppa non va bene, dal punto di vista della fermentazione e delle razze di probiotici, non va bene la zuppa, ma te lo puoi mangiare così com'è. Io ogni tanto mi prendo un cucchiaino di miso non pastorizzato, devi prendere la pastella di miso non pastorizzato, perché pastorizzato vuol dire che hanno ucciso tutti i batteri con un riscaldamento improvviso per evitare che continui a fermentare. Tu prendi quello non pastorizzato, dura meno sullo scaffale, ma tanto tu lo metti in frio, perché non importa, e ogni tanto ti mangi questa roba qua e ti riempi la pancina di bifidi. È una bella cosa, un bel suggerimento. Un altro probiotico insospettabile sono le olive. Le olive, quelle fermentate, non pastorizzate, anche qua ci sono sempre tre modi di fare le cose giuste e un milione di farle sbagliate, quindi devono essere non bollite, non pastorizzate, ma le olive sono lasciate fermentare un bel po' di tempo e contengono una quantità straordinaria di batteri buoni, utili all'intestino. Quindi quando tuo figlio vuole tante olive, sì, dagli un po' una limitazione, però gli stanno facendo bene non limitarlo troppo. Non dagli quel cacchio di yogurt pieno di zucchero e di frutta che ti dicevo prima, perché le olive sono troppe. Dagli le olive, è un ottimo probiotico. Hai notato quanto siano golosi i bambini di olive? Non so, solo i miei o anche i tuoi? Fammelo sapere. Di cibi fermentati ce ne sono poi tanti altri, mi viene in mente per esempio i crauti. I crauti fermentati sono un ottimo probiotico, perché vedete qual è il problema dei probiotici? Che vengono quasi tutti uccisi dai succhi gastrici. Quindi tu butti dentro un fantastiliardo di probiotici e questi qua, poveretti pochissimi, passano la digestione. Tra l'altro l'idea che si aveva una volta era prendeteli a stomaco vuoto, dicevano, perché così a stomaco vuoto non ci sono tanti succhi gastrici che li uccidono e quindi è probabile che passino maggiormente la barriera della digestione dello stomaco. Non è detto che questo sia un buon suggerimento, perché in effetti quando mangi un cibo fermentato invece che la capsulina, diciamo che gli dai anche quel contenimento, quella barriera che aiuta il batterio a passare indenne, quindi non ucciso dalla digestione e finisce nell'intestino dove deve essere. Quindi insomma anche mangiare, prendere i probiotici anche in capsule a stomaco pieno non è sbagliato, purché non ci butti giù una bevanda caldissima come una camomilla che scotta o una zuppa di miso come quella di prima, d'accordo? Quindi anche i crauti fermentati sono un ottimo cibo, sono difficili da fare, io trovo che siano difficili da fare, per esempio i coreanni fanno il kimchi che non è solo crauti ma anche altre cose, il problema è che devi avere un po' di pratica, perché c'è un sottile confine tra il crauto andato a male e fermentato, davvero, deve essere lenta la sua fermentazione e quindi devi accorgerti se ha fatto la muffa, se è andato oltre come fermentazione e poi rassegnati a una cosa, puzza terribilmente, da che mondo è mondo i crauti cotti puzzano e anche i crauti fermentati puzzano. Ecco che per noi occidentali che non siamo abituati fin da piccoli come invece avviene con le persone, non so, i coreani, i giapponesi, loro sono abituati a capire cos'è che è fermentato bene, cos'è che è fermentato male, noi non li sappiamo distinguere, la prima volta ha buttato via cinque volte i crauti, andavano tutte bene, in realtà, ho detto, ma questa puzza, figurati se mangia questa roba, no, puzzavano e sono fatti così. Quindi ecco, per dirla in breve, i probiotici sono utili, hanno anche loro delle contropartite, quindi non è facile trattarli, ma considera di inserire nella tua dieta del cibo probiotico e non solo dei probiotici a parte. Poi le pastiglie, le capsuli di probiotici, hanno il loro perché, noi li consigliamo a un certo punto del percorso, perché danno delle varietà che non trovi nel cibo e anche perché danno, come dire, delle quantità che è difficile raggiungere quel cibo. La cosa positiva è che quando poi questi animaletti passano la digestione e vanno all'intestino, lì si attaccano alla parete e cominciano a proliferare, facendo tanti figli, ti producono i probiotici da soli. Deve esserci sta parete, e infatti in un altro prossimo video parleremo di questo fatto. Prima di tutto bisogna mettere a posto la mucosa intestinale. Ma questo è un altro argomento, per cui ti do l'appuntamento al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!